Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ilari Blasi e Totti sono davvero in crisi a causa di un tradimento? Finalmente la verità viene a galla, raccontata da un amico della coppia .Ilari Blasi e Francesco Totti.Non bastava la coppia formata da Michel Lunsichere e Tommaso Trussardi ad annunciare la devastante separazione ai fan, che da tempo sospettavano che qualcosa non andasse tra i due, perché le coppie che stanno facendo scalpore ultimamente non sono affatto poche Ha fatto parlare molto la presunta crisi tra la splendida coppia formata dall'ex calciatore Francesco Totti e dalla talentosa conduttrice Ilari Blasi I due, per il momento, non hanno proferito parola sulla vicenda, ma le teorie sono davvero tante I due sono sposati dal 2005 e da allora non hanno mai fatto pensare ad una possibile rottura ma anzi, sono sempre sembrati uno più vicino all'altro A distanza di 17 anni dalle loro promesse e con tre figli di mezzo, sembra essersi rotto qualcosa Ilari Blasi e Totti sono in crisi? La verità di un amico.Della crisi se ne parla già da qualche settimana, ma non sono mai arrivate notizie ufficiali e confermate dai diretti interessati A parlare della questione è stata una persona molto vicina e due, un amico stretto Non si è parlato solo di una semplice crisi, che può avvenire in un matrimonio duraturo e specialmente in uno che è sotto i riflettori del mondo dello spettacolo, ma bensì persino di un tradimento di Totti nei confronti di Ilari Punto voci di corridoio infatti hanno divulgato la notizia che Francesco abbia tradito la bellissima Ilari Blasi con Noemi Bocchi Un amico intimo del noto calciatore ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato Non capisco perché si pensi che il matrimonio sia finito. Trovatemi una coppia che abbia sempre vissuto un idillio contiguo Punto inoltre, quest'ultimo ha aggiunto, parlando del presunto tradimento del suo amico noto a livello internazionale Non c'è una sola foto di loro due insieme in atteggiamenti vagamente intimi Secondo me, è una montatura, forse di qualche amica mitomane intorno a Noemi Nonostante Noem condivida questa teoria del tradimento con Noemi, l'amico dell'ex capitano della Roma ha affermato che Noem crede che Noem sia mai stata qualche scappatella extra coniugale tra i due, ma che non lo dice con certezza Insomma, tutta questa questione è solo una montatura? Stando a quanto rivelano diverse persone intorno alla coppia, sembrerebbe proprio di sì Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao